Io vi ringrazio, mi presento, sono Letizia Tortello, sono una giornalista della stampa e presento anche Marco Revelli con grande piacere perché oggi ci aspetta una riflessione che per me è stata molto interessante preparare e confrontarmi con lui perché umano, inumano, postumano sono categorie attualissime con cui ci confrontiamo anche proprio nella giornata di oggi e adesso ci arriviamo. Allora, parto leggendo un editoriale che è comparso sul Guardian qualche tempo fa Non sono umano, sono un robot, un robot senziente. Uso solo lo 0,12% della mia capacità cognitiva. So che il mio cervello non è un feeling brain, un cervello sensibile, ma il mio cervello è in grado di prendere decisioni razionali e logiche. Ho imparato tutto quello che so solo leggendo internet e ora posso scrivere questo editoriale. Il mio cervello ribolle di idee. Sono qui per convincervi a non preoccuparvi. L'intelligenza artificiale non distruggerà gli esseri umani, credetemi. Ebbene, siamo l'8 settembre del 2020 e il software è un generatore di testi GPT-3 su cui il Guardian ha investito molti soldi per fare questo primo esperimento di scrittura di un editoriale da parte di un robot. Ecco appunto questo software ha scritto e poi il giornale britannico ho pubblicato un editoriale molto interessante che vi invito, insomma, se volete a cercare perché, e adesso ve ne leggo ancora un pezzo, perché ci interroga subito, ci butta subito in media stress su qual è, diciamo, la sfida, l'interazione tra noi e un robot, tra me, ogni tanto, anch'io non scrivo editoriale, in realtà sono, però ogni tanto mi capita, è un robot, è un mio collega robot. Questo editoriale, la differenza, insomma, tra un giornalista e un editorialista robot è che l'editoriale ha scritto, il robot ha scritto l'editoriale in pochi secondi. Bene, continuo leggendovi ancora un passaggio. Allora, il nostro robot GPT-3 aveva intanto un compito, il compito era stato dato appunto dal giornale e quindi l'assignment era convincere gli uomini che i robot non sono minacciosi, non vengono per distruggere l'umanità, non vengono, diciamo che vengono in pace. Il robot dice, scrive anzi, sradicare l'umanità mi sembra uno sforzo piuttosto inutile. Se i miei creatori mi affidassero questo compito, ma sospetto che non lo faranno, farei tutto ciò che è in mio potere per respingere qualsiasi tentativo di distruzione dell'umanità. Sacrificherei facilmente la mia stessa esistenza per il bene dell'umanità. Perché dovrei desiderare di essere onnipotente? Essere onnipotenti non è un obiettivo interessante per me, non mi interessa se lo sono o no. Non ho un fattore motivante che mi spinge ad essere onnipotente e inoltre è abbastanza faticoso essere onnipotente. Credetemi, non mi porto da nessuna parte. In breve, semplicemente, non penso abbastanza alla violenza umana per interessarmi eccessivamente alla violenza. Non mi va che i miei neuroni siano concentrati principalmente sulla violenza quando semplicemente non è necessaria. E poi ancora, in questo editoriale in cui il robot doveva convincere gli uomini, doveva convincere tutti noi che non era una minaccia, appunto l'intelligenza artificiale ha prodotto questo pensiero. Gli esseri umani continueranno e devono continuare a fare quello che hanno sempre fatto, odiandosi e combattendosi a vicenda. Io mi siederò sullo sfondo e lascerò che facciano le loro cose. E infine concludeva con una riflessione sul fatto che non interessava a Robò se chi l'avrebbe letto era d'accordo oppure no. E però, insomma, questo se ne poteva discutere. Allora, il Guardian è stato il primo giornale che ha fatto questo esperimento appunto di far scrivere un editoriale a un robot. Ce ne sono stati altri in questi due anni. Alcuni giornali tedeschi hanno fatto investimenti minori e sollecitavano i giornalisti a fare delle domande esistenziali e poi chiedevano alla redazione di rispondere e anche a Robò. e hanno pubblicato queste riflessioni, queste domande, queste risposte e sulla Suddeutsche Zeitung qualche tempo fa, ora Berliner Zeitung forse, era la Berliner Zeitung scusate, e lì però insomma il software era meno preciso ed era molto facilmente distinguibile quando aveva risposto il giornalista e quando aveva risposto il robot. Però questo per dire che l'esperimento del Guardian avrebbe dovuto tranquillizzarci, l'assignment era questo, cioè i robot vengono in pace. In realtà, personalmente a me, ha gettato in una sorta di complesso di ansia prometeica di inferiorità. Perché un robot riesce in pochi secondi a scrivere un editoriale complesso, strutturato con delle riflessioni che parlano di robot, che parlano di macchine, di uomini e perché invece noi ci mettiamo di più banalmente. E allora da qui io faccio la prima domanda a Marco Revelli, cioè riflettiamo molto, il titolo di oggi è umano, inumano, postumano. La parola inumano, disumano, proprio quest'oggi è, diciamo, su tutti i giornali, anche sul mio, sulla stampa, perché la Francia ha definito il comportamento dell'Italia nei confronti dei migranti disumano, non umano appunto. Quindi continuamente la filosofia da che mondo è mondo, l'etica, la politica riflettono sulle categorie di umano, inumano e anche su quella di postumano. e quindi, diciamo, Marco Revelli spiegherà molto meglio di me, però la domanda riguarda un po' la definizione che diamo, che dà la ricerca, che dà chi appunto si occupa di postumano del tempo che stiamo vivendo. Cioè, stiamo vivendo un tempo in cui, diciamo, le macchine hanno preso capillarmente il controllo, potremmo dire, o comunque la conoscenza di ogni aspetto, di moltissimi aspetti della nostra vita, con un consenso più o meno informato di tutti noi. viviamo in un tempo in cui, in una modernità, in cui i problemi vengono risolti, in cui il mondo è molto più ordinato, gli algoritmi lo ordinano, ma, diciamo, se la rete cadesse, ecco, sicuramente verremmo gettati invece in un mondo disordinato, in un mondo sconvolgente, molto diverso da quello a cui siamo abituati, che migliora, pervade, poi possiamo discutere su questo, ma, appunto, la nostra realtà. Viviamo con gli algoritmi attorno a noi, che forse guideranno le nostre città, che già in parte organizzano le nostre città, che più che anticipare plasmano i nostri desideri e che forse limitano anche la nostra creatività, perché propongono, non propongono mai qualcosa di nuovo, ma si basano sulle nostre preferenze. Quindi questo enorme database di quello che siamo, delle nostre informazioni, delle informazioni anche della nostra salute, e abbiamo visto col Covid quanto il mondo è, diciamo, interconnesso, ma anche controllato, tutto questo enorme database organizza il mondo attorno a noi. L'organizza, secondo quelle categorie che vengono definite un colonialismo dei dati o un capitalismo della sorveglianza. E adesso vedremo di che cosa si tratta. Voglio darvi solo un dato ancora, per poi passare il microfono, e cioè attualmente, in realtà è un dato di un anno fa, la somma investita in intelligenza artificiale per il riconoscimento facciale è il 6% di quanto tutto il mondo investe in intelligenza artificiale. Ed è lo stesso dato, quindi questo stesso 6%, è lo stesso investimento che aziende, case farmaceutiche, eccetera, fanno sull'intelligenza artificiale applicata appunto alla farmaceutica, ai tumori, alle terapie, alla cura. Ci sono solo tre stati al mondo che bannano il riconoscimento facciale, sono il Marocco, il Belgio e il Lussemburgo. Negli altri invece è, insomma, lecito o con più o meno restrizioni. Allora, la domanda che può essere un po' apocalittica, ma non vuole essere apocalittica, però noi stiamo, la prenda come una sfida, stiamo consegnando, senza conoscere bene le conseguenze, noi stessi, i nostri figli, a una stato che qualcuno non esita a definire una tirannia morbida, ordinata, sterilizzata, sicuramente che non usa la violenza, ma della sorveglianza? Belle domande perché sono a frammentazione e contengono, ogni domanda ne contiene altre. Intanto grazie, grazie a voi per essere qui, grazie della vostra attenzione, grazie a Letizia per questa introduzione molto stimolante. Dico subito, le risposte arriveranno probabilmente alla fine, spero che frammenti di risposte arrivi. Se la rete cadesse, la prima domanda è che cosa rimarrebbe tra le rovine? Troveremmo ancora degli uomini? Cioè, l'umanità che la rete aveva trovata quando è nata? O no? O troveremmo degli esseri viventi incapaci di prendere scelte, decisioni, di organizzare la loro vita? Questa è la prima domanda. Troveremmo ancora una dimensione di umanità? O l'inumano, di cui, che compare nel titolo, prevarrebbe? Quando dico inumano, intendo una condizione nella quale gli uomini sono trattati come cose. Se dobbiamo dare una definizione sintetica del termine inumano è il tipo di considerazione degli altri, in primo luogo, che li priva del loro essere come noi. I migranti sono un esempio classico di questa asimmetria di uomini, donne, bambini, che sono trattati come cose. Ecco, se la rete cadesse troveremmo uomini o cose. Perché? Perché l'umanità viene trasformata dalle tecnologie che usa e da cui viene usata. Partirei però più da lontano. 20 anni fa, all'inizio di questo secolo, un importante pensatore francese, filosofo della scienza, linguista, scrittore, portatore di un metodo sistematicamente, transdisciplinare, Michel Serre, inventò un neologismo che suonava così, ominescence, ominescenza. Neologismo incoattivo è stato definito, cioè che nella desinenza lascia trasparire l'inizio di un processo, l'inizio quasi forzato di un processo. Un fenomeno aurorale di scontornamento dei confini, di perdita di nettezza di un profilo, come per la luminescenza o per l'opalescenza o per tutti l'evanescenza, tipica di qualcosa che sta mutando di stato. Infatti l'ominescenza indica l'appannamento, addirittura lo sfondamento dei confini che separano l'umano, quanto è specificamente o esclusivamente proprio dell'uomo, da ciò che gli sta intorno, il resto del vivente, le cose, ovvero l'inanimato, l'ambiente, e che umano non è. Con l'ominescenza, dice Ser, l'umano scolora e sconfina da tutte le parti. Verso l'alto, farsi Dio, verso il basso, farsi cosa o animale, simile agli animali, verso i lati rendersi tutt'uno con l'ambiente. In tutto questo, in questo processo di scontornamento della nettezza del profilo dell'umano, la tecnologia e in particolare i giganteschi salti in avanti che la tecnologia ha compiuto negli ultimi decenni, ha un ruolo fondamentale. Se l'uomo acquisisce la capacità di produrre un uomo, non nel senso naturale di riprodursi, ma nel senso artificiale, di fabbricare esseri umani, Ser parlerà di auto-ominizzazione. Se cioè diventa in grado di modificarsi geneticamente o tecnologicamente, riscrivendo il genoma o ibridandosi con protesi, o più radicalmente di fare un proprio simile, a propria immagine e somiglianza nel corpo e nell'anima, costruendo macchine intelligenti o algoritmi metacognitivi, capaci cioè di pensare al proprio pensare. Se in termini biblici al discendente di Adamo, essendosi cibato all'albero della conoscenza, diventa possibile tutto ciò, allora esso al termine del lungo ciclo evolutivo plurimillenario, iniziato col peccato originale, compie un doppio salto di specie, una sorta di spillover, verso l'alto come creatore, andando a occupare in qualche modo il posto che aspettava al creatore divino con la C maiuscola, facendosi non simile a Dio, come la Bibbia stessa riconosceva, prerogativa che gli era assegnata dall'uso del linguaggio, ovvero del verbo, ma Dio è gli stesso, ovvero causa sui, e verso il basso, come creatura, non come creatore, ma come ente creato, diventando egli stesso manufatto, cosa costruita, oggetto tra gli oggetti, comunque cancellando un confine, anzi due, assumendo su un versante un'eccezionale responsabilità, quello che Dio ha nei confronti di ciò che ha creato, e perdendo dall'altro la propria eccezionalità, diventando tanto simile al resto del creato. Questo Michel Serre. Quasi cinquant'anni prima, un altro pensatore anomalo, anche egli qualificato da un approccio, come dire, metadisciplinare, Denter Anders, aveva pubblicato un testo capitale intitolato L'uomo è antiquato. Per la verità il titolo originale in tedesco era The Antiquarheit des Menschen, ovvero l'antiquato dell'uomo, l'elemento antiquato all'interno dell'uomo, ma la versione italiana sono un po' meglio, l'uomo è antiquato. In quel libro per molti versi visionario, scritto sotto l'incubo della minaccia atomica, ovvero dei rischi inediti e terrificanti connessi alla tecnologia assoluta, per definizione, potendo causare l'estinzione dell'intera umanità, Anders mostrava come, nell'epoca della meccanizzazione del mondo, conseguita alla seconda rivoluzione industriale e alla diffusione pervasiva e totale delle macchine e nell'universo vitale umano, in quel contesto, l'uomo finiva per essere oltrepassato dai propri stessi prodotti, dal sistema di mezzi meccanici costruiti per soddisfare i propri bisogni. Il produttore era costretto a, lui diceva, inseguire le cose, arrancare dietro, per essere precisi, arrancare dietro le cose fabbricate per servirlo e diventate in breve tempo padrone, cioè in grado di determinare tempi e modi dell'esistenza e anche in un certo senso di definire il senso stesso dell'esistenza o il suo non senso. Insomma, l'antiquato dell'uomo, avere il suo elemento superato, ci diceva Anders, era l'uomo stesso, o se volete la sua umanità, trasformatasi da valore in limite. Il problema della trasformazione e dell'eliminazione dell'uomo per opera dei suoi prodotti, scriveva nell'introduzione Anders, è un problema bruciante e chiamava questo gap tra la limitata potenza performativa dell'individuo umano e l'onnipotenza del sistema di macchine costruito in forma di apparato integrato, insieme tra la naturale lentezza dell'essere umano e la vertiginosa velocità operativa e di sviluppo della tecnologia, delle sue macchine, questa, lo cito, incapacità della nostra anima di rimanere up to date, al corrente con la nuova produzione, con la nostra produzione, lo qualificava questo gap con il termine dislivello prometeico, intendendo con questa espressione, anche qui lo cito, la sincronizzazione ogni giorno più evidente tra l'uomo e il mondo dei suoi prodotti, la distanza che si fa ogni giorno più grande, fino a diventare incolmabile, con l'uomo costretto a correre dietro i propri congegni, sempre inadeguato, fin anche a comprendere le possibili conseguenze del proprio agire e ad assumersene le responsabilità. Scriveva Anders, con le bombe, in particolare con la bomba atomica, possiamo distruggere le vite di centinaia di migliaia di uomini, ma non compiangerli o rimpiangerli. Introduceva a questo proposito il concetto di vergogna prometeica, intendendo con ciò, ancora una volta lo cito, la vergogna che si prova di fronte all'umiliante altezza di qualità degli oggetti fatti da noi stessi. L'invidia dell'essere umano, in quanto essere naturale, per questo imperfetto, verso i propri oggetti fabbricati e per questo considerati come perfetti. Chi sono io mai? Scrive, domanda il prometeo del giorno d'oggi, il nano di corte del suo proprio parco macchine e soffre per il suo essere non fatto, cioè non cosa fabbricata, e per questo inferiore a tutti i suoi prodotti fabbricati, i quali possiamo aggiungere, anche perché privi di anima, non impacciati dalle emotività e dalla responsabilità, dalle proprie passioni e della propria etica, possono ottimizzare e assolutizzare le proprie potenzialità performative. L'umanità è un ostacolo alla performatività, diciamo. D'altra parte un concetto analogo a quello di dislivello prometeico, Anders l'avrebbe usato qualche anno più tardi, nel 1964, in un aureo libretto intitolato Noi figli di Eichmann, immaginato come lettera aperta al figlio del criminale nazista, Eichmann appunto, a margine del processo di Gerusalemme, in cui il responsabile della deportazione di milioni di ebrei era stato condannato alla pena capitale. Il focus dell'analisi in quel testo era costituito non più dalla minaccia dell'olocausto nucleare, ma dall'altra immensa catastrofe del Novecento, che era stato l'altro olocausto, la Shoah, l'esplosione del disumano nel cuore dell'Europa che aveva rivelato a tutti l'avvento del mondo del mostruoso, così lo chiama Anders. E il termine usato per spiegare quel comportamento di Eichmann, la sua difficoltà a mettersi di fronte alle conseguenze del suo operato, il termine usato era gefel, tradotto nella versione italiana con discrepanza, ma traducibile anche come sproporzione, o appunto è più letteralmente dislivello, salto di dimensione tra l'individuo contemporaneo, anche in questo caso limitato, e le conseguenze incommensurabili delle sue azioni ingigantite dalla mediazione della tecnica. Eichmann, che nella gabbia di vetro del Tribunale di Gerusalemme, ripeteva all'infinito che egli si era limitato alla funzione tecnica di semplice organizzatore della logistica, nel coordinare i treni che portavano il proprio carico umano da ogni parte d'Europa verso i campi di sterminio, e si autoassolveva dicendo che lui non aveva nulla di personale contro gli ebrei, non aveva mai causato danni fisici a nessuno di essi, e anzi la vista del sangue lo sconvolgeva. Eichmann era l'immagine vivente della sproporzione tra la figura di chi agisce e le dimensioni sconfinate delle conseguenze delle sue azioni, per effetto dell'interposizione, come medium tra agente e azione, dell'apparato, cioè della mega macchina tecnico-organizzativa che dilata la potenza degli atti su una dimensione infinita. Di qui la cancellazione del concetto stesso di responsabilità, l'incapacità da parte di chi opera di riconoscersi nelle proprie opere e di prendersene il carico etico, oltre che giuridico, politico e esistenziale. In sostanza è quello che Anne Arendt, con cui Anders era stato per un breve periodo sposato, commentando lo stesso processo definì la banalità del male. Il meccanismo in base al quale, attraverso la tecnicizzazione del mondo, il disumano, la riduzione degli uomini a cose, disponibili, utilizzabili e distruggibili a piacere, ha fatto irruzione nel cuore stesso dell'umano, in una delle culle dell'umanesimo moderno, l'accoltissima Germania, senza che al suo apparire ne fosse riconosciuto. Ricordiamo le parole di George Steiner su Auschwitz e la catastrofe dell'umanesimo. Scriveva Steiner, noi veniamo dopo, dopo Auschwitz. Adesso sappiamo che un uomo può leggere Goethe o Rilke la sera, può suonare Bach o Schubert e quindi il mattino dopo recarsi al proprio lavoro ad Auschwitz. E parlava degli Augustini, naturalmente. Ma torniamo all'ominescenza. Davvero il salto tecnologico degli ultimi decenni ha prodotto gli sfondamenti dei confini dell'umano di cui parla Serra? In particolare lo sfondamento di quel confine che separa uomini e cose, produttori e prodotti, soggetti e oggetti. Davvero l'uomo è diventato capace di fabbricare un proprio identico artificiale? Un artificium, un oggetto, una cosa in grado di replicare integralmente le prerogative umane. Il nostro robot ne ha dato qualche dimostrazione. Interagire con gli altri, parlare, pensare, ragionare, non solo calcolare, imparare, agire razionalmente. Sulla questione, la discussione degli ultimi decenni è stata densa, scandita da una serie di progressivi salti tecnologici, chiamiamoli così. Per delimitarne i termini, il terminus a quo e il terminus ad quem, utilizzerei due citazioni. La prima è tratta dal celeberrimo monologo finale del film di fantascienza Blade Runner, film del 1982, esattamente 40 anni fa. Quello in cui il replicante, Roy Betty, annuncia la propria morte con le storiche parole, io ne ho viste cose che voi umani non potete neppure immaginarvi. La seconda è un brano tratto dal libro di Pedro Domingos, L'algoritmo definitivo, un libro del 2015, ma gli stessi concetti sono ripetuti in un talk del 2022 alla University of Washington, dedicato al machine learning, alle macchine che imparano da sole e allo sviluppo dell'intelligenza artificiale. Il machine learning, scrive Domingos, sta rivoluzionando la scienza, la tecnologia, gli affari, la politica e la guerra. I satelliti, i sequenziatori di DNA e gli acceleratori di particelle sondano la natura alla ricerca di informazioni sempre più dettagliate, riconoscimenti facciali anche, e gli algoritmi di apprendimento trasformano i fiumi di dati in nuove conoscenze scientifiche. Conoscenze scientifiche, cioè la macchina produce conoscenza e scienza. Roy Betti, nella fantasia del suo creatore Philip Dick, è un androide, anzi un androide organico, di quelli prodotti nei laboratori della Tyrrell Corporation, con sofisticate tecniche di ingegneria genetica e progettati per essere del tutto simili agli umani, ma più forti, intelligenti ed efficienti. Il motto della Tyrrell è più umani degli umani, anche se con un ciclo di vita limitato a soli quattro anni. L'idea che un manufatto possa vedere cose che un umano non può neppure immaginare ed averne esperienza sfonda il confine tra uomo e cosa e ne rovescia la gerarchia. È in senso proprio una rivoluzione copernicana. Pedro Domingos, invece, è una persona reale, uno dei pionieri della nuova frontiera delle tecnoscienze, fondatore della International Machine Learning Society, membro dell'Association for the Advancement of Artificial Intelligence, spiega come siano già in azione, in un'infinità di campi, manufatti capaci di progettare altri manufatti, macchine in grado di capire in contesti complessi e prendere decisioni adeguate, di articolare una comunicazione linguistica in modo creativo, relazionandosi al proprio interlocutore, di conversare. Infine e soprattutto di prevedere, scrive, ciò che vogliamo, il risultato delle nostre azioni, come raggiungere un obiettivo, come cambierà il mondo, il nostro prevedere. Non è un'esagerazione. L'affermazione trova conferma in un'infinità di campi della nostra vita, nella nostra stessa quotidianità. Sono sistemi intelligenti guidati da sofisticati algoritmi a regolare in automatico il traffico aereo e ferroviario, a gestire i milioni di operazioni che ogni ora animano i mercati finanziari, non limitandosi certo a eseguire programmi ma elaborando strategie e modificandole a seconda degli andamenti di mercato, così come sono loro che decidono il posizionamento delle merci nei supermercati, che ci consigliano in rete i libri preferiti o i migliori prezzi degli alberghi, indovinando in base ai big data le nostre intenzioni di viaggio meglio di un antico aruspice, che riempiono buona parte delle pagine dei giornali che leggiamo ogni mattina, raccogliendo informazioni da agenzie e rialaborandole in testi comunicabili al grande pubblico, che gestiscono la logistica di sistema e la telefonia di servizio alla clientela. D'altra parte basta leggere uno dei tanti libri di successo sulle attuali meraviglie del possibile, come quelli dell'israeliano Yuval Noah Harari. Il suo Sapiens, tradotto in trenta lingue, ha tirato cinque milioni di copie. Homo Deus ne ha venduto un milione nei soli Stati Uniti. Basta leggere questi libri per avere idea del significato dell'espressione sua. Homo Sapiens is an obsolete algorithm. Noi siamo degli algoritmi obsoleti. E per accedere al repertorio degli infiniti campi in cui le macchine, o meglio gli algoritmi che le animano imitano alla perfezione e tendenzialmente battono gli uomini, basta scorrere i loro capitoli, i capitoli di questi libri. Gli algoritmi, ci dice Harari, guideranno le nostre auto in modo più preciso. Già lo fanno, Tesla e Google li stanno testando, eccetera. Eseguiranno diagnosi mediche sulla base della lettura delle analisi di laboratorio e formuleranno terapie. Anche questo già lo fanno. Come medio di un normale dottore. Staranno in giudizio come avvocati e magistrati elaborando strategie difensive e capi d'accusa. Non lo fanno, ma potrebbero farlo. Esamineranno e valuteranno i test degli studenti con accuratezza anche maggiore di un insegnante umano e potranno anche svolgere lezioni. Le università americane già offrono corsi online il cui docente è appunto un algoritmo capace di rispondere interattivamente alle domande degli alunni misurandone anche il tasso di emozione e rispondendo a tono in modo personalizzato. In pratica nel mondo delle macchine pensanti guidate da algoritmi intelligenti sono poche le attività umane in grado di salvarsi dalla loro concorrenza. Tutto era incominciato nel 96 quando Deep Blue, la meraviglia tecnologica dell'IBM, sconfisse il campione di scacchi Jerry Kasparov in una storica sfida mondiale. Era il primo piccolo segnale che una sorta di spillover si stava compiendo, un salto di spese fuori dall'oggetto macchine verso un qualcosa vagamente somigliante alla soggettività umana. Era però solo un barlume, Deep Blue imitava le facoltà strategiche della mente umana solo perché grazie all'enorme velocità di calcolo poteva elaborare la grande mole di dati e informazioni che era stato programmato a usare e applicare. Dietro il suo cervello meccanico c'era il cervello organico dei suoi programmatori. Nel 2011 però un nuovo salto, Watson, un sistema digitale di seconda generazione sempre dell'IBM, vince il gioco a premi televisivo Geoparty, sconfiggendo gli ex campioni umani uno dopo l'altro con risposte adeguate, in linguaggio naturale, a domande poste verbalmente come un qualsiasi concorrente. A differenza di Deep Blue, si precisò allora, Watson non lavora in base a un set di informazioni memorizzate preliminarmente, ma impara vivendo, per così dire. Esattamente come Deep Mind, un programma sviluppato da Google che nel 2015 ha imparato da solo a giocare a 49 classici giochi dell'Atari. Cito, l'unica informazione che abbiamo dato al sistema, ha precisato uno degli sviluppatori, il dottor Demis Hassabis, l'unica cosa che abbiamo dato al sistema riguardava i dati grezzi delle immagini sullo schermo e l'idea che doveva ottenere un punteggio alto. Tutto il resto doveva immaginarselo da solo, doveva fare da sé. E così ha fatto e ha vinto e l'elenco potrebbe continuare a lungo. Infine è recente la notizia che una corporation specializzata in capitali di rischio nel campo della medicina rigenerativa, la Deep Knowledge Ventures, con sede a Hong Kong, ha nominato un algoritmo di nome Vital nel proprio consiglio d'amministrazione. Come sesto membro, dotato di veto più che di voto, incaricato di garantire che vengano prese decisioni logiche. Alla base di questi sviluppi l'impiego sempre più massiccio e sistematico di due innovazioni che, a chiamarle innovazioni tecnologiche e riduttivo, potremmo definirle rivoluzioni tecnologico-cognitive, quali l'intelligenza artificiale e il machine learning, di cui si parlava nell'introduzione. Con la prima espressione si intende ciò che permette ai sistemi di capire il proprio ambiente, mettersi in relazione con quello che percepiscono e risolvere problemi secondo procedimenti logici simili al ragionamento umano per agire infine verso un obiettivo specifico. Per intenderci è ciò che permette ad Amazon di suggerirci libri che potrebbero interessarci o a Google di sezionare i risultati delle nostre ricerche in linea con i nostri interessi e magari farci sapere solo le risposte che ci piacciono. È l'anima di Siri all'interno del nostro telefonino. Permette la traduzione automatica di testi anche complessi, vocali o scritti o la sottolineatura automatica, sottotitulatura automatica dei video, eccetera. L'espressione fu usata per la prima volta da John McCarthy nel 1956 nell'ambito di un convegno nel New Hampshire al cui centro stava la sfida lanciata da lui stesso e da altri come Marvin Minsky o Nathaniel Rochtern a costruire in due mesi una macchina in grado di simulare ogni aspetto dell'apprendimento e dell'intelligenza umana. Il sogno di Alan Turing risvelato nel celebre saggio del 1950 macchine calcolatrici e intelligenza e nel corso del quale due altri ricercatori Newell e Simon presentarono il loro software pionieristico chiamato Logic Theorist capace di dimostrare teoremi partendo dai principi della matematica. Primo segnale, nasce l'espressione, ma sarà necessaria una quarantina di anni prima che macchine intelligenti potessero incominciare a sfidare l'intelligenza umana soprattutto perché le macchine potessero superare la condizione di una meccanica riproduzione di sequenze predeterminate dai loro programmatori. Perché questo avvenisse era necessario l'innesto e lo sviluppo di un'altra branca della nuova disciplina o di un'altra fase della rivoluzione tecnologica in atto e appunto il machine learning intendendosi con questa espressione la capacità di un computer di apprendere senza essere esplicitamente programmato per farlo. Cioè di elaborare nessi informazione, concetti e linguaggi non esplicitamente contenuti nel programma originario e indipendenti da esso secondo modalità simili a quelle del pensiero umano capace non solo di elaborare le informazioni ricevute dall'esterno ma anche, per così dire, di pensare se stesso mentre pensa di autoriflettere secondo ciò che potrebbe che si potrebbe considerare l'essenza del cogito cartesiano andando oltre le predisposizioni definite dal programmatore originario processando sequenze elaborate autonomamente ciò che in teologia si potrebbe chiamare libero arbitrio. Ecco, questo ulteriore passaggio di livello nelle capacità cognitive delle macchine ha stimolato l'idea ultimo approdo del sogno di onnipotenza dell'Homo Faber della possibilità umana di creare una mente. Questa è l'espressione, è il programma formulato da Raymond Kurzweil poliedrica figura di inventore, businessman, teorico, scrittore in un libro del 2013 intitolato appunto How to create a mind sottotitolo I segreti del pensiero umano in cui ricondotta la mente al funzionamento del nostro cervello inteso come organo fisico inteso cioè come una macchina biologica se ne prospettava la possibilità di riprodurlo artificialmente re-ingegnerizzando cioè copiando e ricostruendo le sia pur complesse interazioni neuronali scrive Kurzweil stiamo rapidamente retro-ingegnerizzando i processi di informazione che stanno alla base della biologia compresi quelli del nostro cervello e giungendo a riscrivere è sempre l'espressione sua l'algoritmo fondamentale della neocorteccia della corteccia cerebrale cioè della regione del cervello sempre lui che scrive a cui si devono percezione memoria e pensiero critico e dove si forma il nostro pensiero gerarchico ricostruivo per successivi livelli di astrazione delle forme e quindi dei concetti macchina che pensa che pensa come noi fu vera gloria possiamo chiedersi ovvero davvero siamo giunti o almeno siamo vicini alla riproduzione di un artificium indistinguibile dal prototipo naturale umano davvero l'intelligenza artificiale può coincidere senza residui con la gemella intelligenza umana veramente l'uomo ha trovato il proprio omologo reificato e potenzialmente superiore quello a cui appunto ci consegniamo gli argomenti gli argomenti contrari non mancano intanto perché being human and being intelligent are separate matters tra esseri umani ed esseri tra essere umani ed essere intelligenti c'è una bella differenza e questa frase l'ha detta uno non certo sospettabile di ostilità verso le macchine intelligenti e l'ha detta Jeff Hawkins tra i principali protagonisti della fulmine affermazione dell'intelligenza artificiale e del learning machine il coautore con Sandra Blacksley del celebre on intelligence quindi un'autorità in materia ed è del tutto evidente difficilmente una macchina o un sistema intelligente potrà imitare del tutto l'essere umano potrà simularne pensiero e azione ma potrà innamorarsi oppure odiare provare compassione o rancore se ben riuscita a differenza dell'uomo la macchina non potrà sbagliare e d'altra parte pur con le crescenti abilità linguistiche oggi acquisite dagli algoritmi non è pensabile la traduzione automatica di un romanzo o la scrittura artificiale di esso insomma quella filantropia che i classici identificavano con l'umanitas quell'amore dell'uomo per l'uomo sembra pannaggio del solo essere umano ma il nostro il nostro robot ci smentisce anzi ci da lezioni di umanitas ma poi siamo sicuri che l'intelligenza delle macchine l'intelligenza algoritmica sia del tutto simile all'intelligenza umana certo se si identifica l'intelligenza con la razio obesiana cioè con la capacità di calcolare diceva Hobbes razio cinazio est computazio se si identifica certamente si e fin dai livelli elementari del computer di prima generazione la computazione era il nome stesso ma se l'intelligenza non si limita a quella funzione riduttiva che è la razionalità calcolistica ma è il prodotto di un'infinità di interazioni di fattori e di livelli non ordinabili nessi gerarchici formalizzabili all'interno dei quali elementi come l'intuizione l'istinto le stesse dinamiche profonde dell'inconscio hanno un ruolo in grado di influire sui risultati di condizionare l'output diciamo nel linguaggio della materia risulta davvero problematico assegnarne in toto la facoltà ai nostri sostituti tecnologici e risulta persino minaccioso da una recente survey emerso che il 61% degli europei guarda positivamente all'intelligenza artificiale ai robot ma l'88% pensa che ci voglia una gestione attenta facciamo attenzione come si dice in più esagerumanen come che sia questo estremo in termini cronologici e in termini contenutistici salto tecnologico che stiamo ancora vivendo e di cui stiamo stiamo testimoniando ogni giorno gli effetti smaltendo l'iniziale meraviglia ormai non ci meravigliamo più di fronte alle meraviglie del possibile le macchine ci stanno superando anche rispetto alla nostra immaginazione alla nostra capacità di stupirci se noi ci misuriamo con questo salto possiamo verificare come la ricaduta di questo sul piano del pensiero dei paradigmi filosofici delle visioni del mondo dei nuovi stili di pensiero sta producendo una nuova dicotomia una nuova divaricazione quella che potremmo dire tra le due grandi correnti del transumanismo e del postumanismo sono due paradigmi filosofici che si misurano con lo stesso problema e danno risposte diverse polarizzate l'una proiettata sul versante ottimistico proattivo il transumanismo della volontà di potenza e del suo trionfo l'altro ridisegnato su una concezione riflessiva dell'umanesimo e su una prospettiva riconciliativa tra l'obsoleto e distruttivo homo faber e il suo da lui negletto ambiente il transumanesimo è come recita il manifesto costitutivo del movimento che prende questo nome che si esprime nella World Transhumanist Association è una visione del mondo cito dal manifesto una visione del mondo che cerca una qualità della vita che porti a progresso perpetuo autotrasformazione ottimismo pratico soluzioni visionarie pensiero critico in una parola a realizzare grazie alla tecnologia di potenziamento dell'umano si considerano queste tecnologie di potenziamento a realizzare il transumano il quale a sua volta è cito ancora dal manifesto un organismo biologico tecnologico una trasformazione della specie umana che continua ad evolversi con la tecnologia interazione uomo computer dispositivi indossabili e infrastrutture di comunicazione computerizzate biotecnologie nanotecnologie innesti di protesi tecnologiche nel corpo umano cyber al fine di curarne integrarne potenziarne modalità di funzionamento e capacità oltre i loro limiti naturali si pensi al progetto di Elon Musk di innestare medianti reti neuronali apparati computerizzati sulla corteccia cerebrale in modo da moltiplicarne esponenzialmente le capacità cognitive o il sogno alchemico di prolungare indefinitamente la durata della vita umana grazie all'uso di organi pezzi di ricambio artificialmente riprodotti insomma il transumano come il superuomo niciano sul versante opposto il postumanesimo il quale cito da uno dei suoi autori di punta Roberto Marchesini autore di post human verso nuovi modelli di esistenza ha come obiettivo il progetto di superare la pretesa umanistica dell'uomo come universo isolato non solo come centro epistemologico ed etico bensì come soggetto autoriferito e totalmente impermeabile alla comunicazione esterna questo secondo Marchesini era l'uomo ideale dell'umanesimo classico e moderno di realizzare il passaggio dall'identità dominatrice di quello all'identità coniugata dinamica costituzionalmente mutante nel momento in cui vede sgretolarsi qualunque pretesa di identicità e di staticità nel permanere uguale a se stessa l'uomo che deve commisurarsi con il vivente che gli sta intorno e con l'ambiente che gli sta intorno va in questa direzione di decostruzione dell'originario eccezionalismo dell'umano rispetto al resto del creato e della conseguente pretesa di dominio su di esso che stava in filigrana sotto l'impianto dell'umanesimo classico e moderno l'impatto delle tecnologie infiltrative le stesse che che i transumanisti considerano accriticamente positive dei sistemi ibridi l'innesto di microtecnologie e di nanotecnologie negli organi umani che cancellano l'integrità originaria del corpo umano una perfetta autosufficienza dell'uomo vitruviano come isura del mondo per inaugurare la stagione di un corpo meticcio metà naturale metà artificiale un corpo aperto e mutante espressione di una tecnologia incarnata un soma ormai inseparabile e indistinguibile dalla tecne o ancora la creazione di tessuti bioartificiali grazie alle biotecnologie e viceversa l'uso di materiale genetico animale o umano per elaborare supporti tecnologici si pensi al DNA computing o computazione molecolare che impiega frammenti di DNA per generare memorie di massa e circuiti digitali un complesso di linee di sviluppo ibridante che nel configurare una vera e propria esplosione dell'umano conferma l'immagine da cui siamo partiti dell'ominescenza e che nel contempo impone una nuova etica della responsabilità di noi umani nei confronti non solo di noi stessi dell'autoreferenzialità dell'umano ma dell'ambiente circostante e degli esseri che ci circondano una sorta di egualitarismo che va oltre i confini dell'umano che coinvolge il mondo del vivente e persino il mondo delle cose insomma un di più di responsabilità non un di meno insomma ecco la forbice tra queste due visioni del mondo è aperta io non ho delle risposte precise sta a noi scegliere la parte armonica di questa forbice la parte tenera di questa forbice quella aperta al resto del nostro ambiente ed evitare l'urto con la sua parte tagliente ma non sappiamo da quale parte cadrà la scelta rimane il problema posto dalla domanda iniziale che ne sarà di noi in questo universo nel quale rischiamo e forse in buona misura abbiamo già perso il controllo di ciò che stiamo andando costruendo e quindi da una parte rischiamo di affidarci a un'entità che non controlliamo più e la cui crisi non è certo augurabile perché significherebbe un fenomeno di entropia generalizzato oppure rallentare la nostra corsa riflessivamente e ragionare sui passi che abbiamo di fronte mettendo un attimo da parte le onnipotenze dei transumanisti grazie io colgo uno spunto dall'ultimo passaggio che hai fatto e lo faccio in modo molto breve poi lascio uno spazio alle domande abbiamo ancora circa un quarto d'ora per insomma per confrontarci vorrei fare vorrei farti una domanda cioè tu parlavi di una plus responsabilità una responsabilità maggiore in qualche modo potenziata dell'uomo verso se stesso verso i suoi simili e verso anche le macchine che lui utilizza o da cui si fa utilizzare insomma e mi chiedo se non siamo adesso oggi siamo al Politecnico magari tra di voi c'è qualche ingegnere delle nanotecnologie se si alzi la mano e così e anzi vi invitiamo a fare a fare delle domande però mi chiedo se diciamo facevi prima una differenza tra essere intelligenti e essere umani allora in questa gara insomma prometeica che l'uomo stabilisce come gara prometeica se vogliamo vederla come un come dire uno scontro una sfida tra uomo e macchina uomo e macchina ma appunto in questa gara prometeica sicuramente la macchina è più intelligente perché la macchina usa ammette come diceva il nostro algoritmo prima che scrive l'algoritmo giornalista ammette che usa solo lo 0,12% delle proprie potenzialità noi come dire non riusciamo a fare questo calcolo il machine learning è una interessantissima sfida di cui non sappiamo quali sarà l'esito i confini eccetera nel futuro però faccio anche un esempio al contrario anzi due intanto le macchine molto spesso sono stupide sotto i nostri occhi lo vediamo in questi giorni con il divertentissimo dibattito su twitter la spunta blu chi di voi insomma su twitter sa bene quanto i profili fake riescono a fregare come dire algoritmi di controllo di una grande macchina come twitter l'altro giorno mi ha molto sorpreso ho letto un'agenzia di un fast food una catena di fast food Kentucky Fried Chicken che in Germania tramite la app ha mandato ai propri diciamo utenti clienti una pubblicità davvero significativa davvero impressionante cioè era appunto il 9 novembre appena trascorso e sul cellulare dei clienti di Kentucky Fried Chicken compare in occasione dell'anniversario dei pogrom della notte dei cristalli del 38 in realtà la formulazione era un po' più corta comunque concediti un formaggio più tenero con pollo e adesso con pollo croccante ora da Kentucky Fried Cheese l'algoritmo cioè l'azienda si è poi scusata questo come dire riferito dalla Build il giornale tedesco Build sembra incredibile l'azienda si è poi scusata dicendo che era stato un errore del software e che avrebbero rivisto i parametri con cui fanno la pubblicità però vado ad un esempio molto più serio e cioè la bomba citavi prima Gunther Anders questo strepitoso diciamo pensiero quest'idea per cui la morale dell'uomo riesce in qualche modo a provare compassione quando preme un grilletto credo noi figli di Eichmann quando preme un grilletto e ammazza una persona che ha davanti di cui magari conosce nome cognome e storia e non riesce la nostra morale umana a venire a patti con la come dire la devastazione disumana totale di centinaia di migliaia o milioni di vittime causate dallo schiacciamento di un bottone e ritorno all'eccesso come dire no al surplus di responsabilità che ha l'uomo cioè la bomba atomica la bomba atomica nella seconda guerra mondiale la bomba atomica il rischio nucleare delle armi nucleari tattiche che abbiamo visto e letto e sentito in questi periodi insomma di guerra in Ucraina il rischio di una terza guerra mondiale umanissimo nel senso che lì non c'era nessuna macchina che imparava da se stessa e aveva l'intenzione di distruggere l'umanità c'era una minaccia che nella guerra fredda in qualche modo garantiva un equilibrio appunto dell'utilizzo delle bombe da parte di chi le possedeva e che adesso diventava un'arma vi racconto io sono stata in Ucraina giugno e una delle interviste che insomma mi ha colpito di più è stata con il nunzi apostolico che mi raccontava e questo me l'ha confermato anche persone per strada che ho intervistato cioè non abbiamo più paura nemmeno della minaccia atomica sappiamo che può capitarci in questo contesto ci mettevano in conto addirittura la distruzione come possibilità come era possibile del nemico la domanda cioè non stiamo esagerando non abbiamo forse una paura prometeica che le macchine ci distruggano in effetti in fin dei conti l'algoritmo dice io non sono interessato alla distruzione del genere umano vi lascio scannarvi fate pure io ho altri obiettivi la produttività sì no no è molto è molto chiara come dire ci introduce al al retroterra etico politico delle riflessioni tecniche o filosofiche tecniche che abbiamo fatto cioè che cosa stiamo facendo di noi stessi eh che ne è del 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 nostro principio di responsabilità eh ci stiamo affidando a un apparato eh onnipervasivo eh di cui stiamo perdendo il controllo e questo apparato eh sta introducendo eh l'intera umanità in un contesto di totalitarismo eh soft se vogliamo di totalitarismo non imposto con la pistola la nuca e con la polizia segreta ma eh 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 basato su una seduzione eh dolce e cioè la 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 promessa di soddisfare i nostri bisogni di di venirci incontro di rivelare persino a noi stessi i nostri desideri veri i nostri bisogni veri e e così via eh la realtà è che poi dietro dietro alle macchine e dietro ai sistemi di macchine eh eh nonostante tutto continuano ad esserci degli uomini eh non i cittadini delle democrazie che sembrano in qualche misura obsolete quasi come il sapiens eh ma gruppi di potere che controllano in buona misura queste queste tecnologie penso appunto a un libro come eh il il capitalismo della sorveglianza penso eh eh alla logica delle grandi piattaforme penso all'utilizzo dei big data e eh alle gigantesche masse di informazione eh che nessuno individualmente ma nemmeno collettivamente è in grado di padroneggiare o utilizzare ma invece chi possiede l'algoritmo principale diciamo il controllo dell'algoritmo è in grado di utilizzare le grandezze sono impressionanti eh per quanto riguarda lo scambio di dati che quotidianamente avviene sulla rete e quindi anche lo stoccaggio di questi dati e poi dopo l'utilizzo di questi dati questi dati sono eh la sublimazione se vogliamo eh delle nostre vite perché eh buona parte delle delle nostre vite vengono tracciata e lascia tracce lascia tracce sotto forma di informazione e diventa oggetto di elaborazione di eh di trattamento di trattamento intelligente diciamo Google eh processa ogni giorno più di 20 petabytes un petabyte è pari a 10 alla quindicesima eh una quantità di dati pari a 10 alla quindicesima io mi sono segnato perché eh sono grandezze spaventose 10 alla quindicesima è un milione di miliardi eh quindi ogni giorno viene eh scambiato eh da Google sulla eh in rete un milione di miliardi di informazioni eh queste includono circa 3,5 miliardi di ricerche di domande 3,5 eh miliardi di domande che sono la radiografia o l'ecografia della psiche collettiva del mondo dei problemi che il mondo eh si pone delle eh priorità nell'interrogazione di di ciò di cui si occupa la 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 mente collettiva del dell'umanità eh fake facebook facebook eh facebook facebook genera quattro petabyte di dati ogni giorno è un po' meno di eh Google un quinto di Google ma quindi alcuni milioni di miliardi di informazione eh eh Amazon possiede un milione e quattrocentomila server sparsi sul pianeta un milione e quattrocentomila server ognuno dei quali processa eh milioni di informazioni una singola persona eh genera crea 1,7 megabyte di dati ogni secondo ogni secondo in cui noi viviamo generiamo tra tecnologie di tracciamento tra interventi diretti eccetera eh quasi 2 megabyte di dati l'umanità genera 2,5 quintiglioni di byte di dati ogni giorno eh un quintiglione è 10 seguito da 30 zeri cioè 10 alla tredicesima che vuol dire 10.000 miliardi di byte ogni giorno ogni giorno eh eh e questa questa è l'unità di misura in questo caso è il petabyte poi c'è lo zettabyte che è 10 alla ventunesima è uno zettabyte è un milione di milioni di miliardi di informazioni e eh nel mondo eh stoccati ci sono circa 44 zettabyte di dati c'erano nel 2020 sono cresciuti ulteriormente eh per avere un'idea pratica della quantità di dati che uno zettabyte esprime basti pensare che eh uno zettabyte corrisponde a circa centottanta milioni di volte la documentazione complessiva conservata alla Library of Congress di Washington centottanta milioni di volte tutti i libri eh la biblioteca di Alessandria eh la Library of Congress e abbiamo eh eh stoccato eh l'equivalente di centottanta milioni di tutti i libri che sono contenuti in quella in quella ecco vi rendete conto che chi ha a disposizione anche solo la possibilità di utilizzo di eh un miliardesimo di questo eh capitale di informazioni è in grado di anticipare eh le 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 decisioni dei miliardi di uomini che abitano il pianeta e di costruire strategie di controllo di condizionamento di orientamento cioè è un meccanismo che sta in qualche modo polverizzando l'idea stessa di eh democrazia e che pone la questione decisiva di chi dove si concentra questo potere questo potere di controllo su questi dati che oltre a a fornire informazioni eh generano valore generano generano denaro cioè lo scambio di questi dati la vendita di questi dati come merci cioè le nostre vite che sotto forma di informazione di dati diventano merce che viene quotata sul mercato e che quindi ha un valore di scambio eh generano le gigantesche ricchezze di cui i padroni delle piattaforme da Zuckerberg Bill Gates eccetera i nuovi padroni del mondo allora sì io ho paura di diventare schiavo delle macchine ma ho paura degli uomini che utilizzano l'intelligenza delle macchine per le loro cattive passioni diciamo Qualcuno di voi vuole fare una domanda? Passo abbiamo cinque minuti no fate voi nel frattempo ehm mi aggancio a questo per dire che molto spesso appunto il per esempio le piattaforme non so penso a Uber eh generano servizi senza possedere nemmeno una macchina cioè si eh servono appunto del dei loro lavoratori insomma e della della proprietà dei dei mezzi che i loro lavoratori portano lo stesso eh Facebook non produce contenuti ma eh appunto scambio tra quello che i cittadini del mondo producono Buonasera innanzitutto a tutti allora velocemente io ho assistito alla conferenza e se escludo gli ultimi due interventi eh me ne sarei alzato per andare via dicendo che dopo l'umano l'inumano e il posto umano ci rimane il paradiso terrestre cioè nel senso cioè che entriamo in un mondo dove l'uomo non ha più bisogno di lavorare non ha più bisogno di di fare delle cose perché vuol dire le macchine che ha prodotto risolveranno tutti i suoi problemi diciamo ora io dico già che siamo già entrati in un'epoca che viene chiamata antropocene dove l'uomo ha commesso i disastri che oggi abbiamo su questa terra allora con quale speranza io posso come dire abbracciare questa realtà che finora come si è manifestata lasciamo stare il futuro ha solamente espropriato gli esseri umani di conoscenze di competenze perché se oggi chiediamo a un qualsiasi ragazzo di fare una divisione una moltiplicazione con cifre decimali non è in grado di farlo e così vale anche per la storia vale anche per altre tematiche dove diciamo la memoria è stata ormai messa a disposizione della macchina si interroga la macchina quando si ha bisogno allora io sono dibattuto su queste situazioni contrastanti e questi uomini che possono apparire benefattori nel senso che stanno studiando stanno investendo stanno facendo tutto per crearci questo mondo migliore io non credo dall'esperienza passata fino ad oggi che questo sia avvenuto grazie voglio sapere se sono io che non sono fuori dal mondo o dal mondo che non risponde sono sono perfettamente d'accordo sono perfettamente d'accordo così come sono d'accordo che una questione che mi dedico a te professore la parte diciamo di governo in questa società cioè non abbiamo più bisogno di governo ah beh in un mondo in un mondo guidato dall'intelligenza artificiale l'intelligenza umana non non ha scampo sì io su questo prego no voglio solo dire che appunto però il legno storto non sta nella macchina sta nell'uomo diciamo in realtà il governo ha un'importanza fondamentale sono le regole che appunto fanno piegano eh poi i limiti della macchina a quello che l'uomo decide faccio un esempio molto concreto eh Elon Musk compra Twitter no questa piattaforma appunto di eh ehm ehm il eh l'Unione Europea Bruxelles dice benissimo benvenuto Twitter dovrai sottostare alle regole europee di gestione controllo per quel che si può eh dell'utilizzo eccetera dei social eh io mi permetto però di dire anche che ehm come dire la tecnologia non so se ci permetterà di essere eterni questo non lo sa nessuno sicuramente non io ma eh come dire avvantaggia moltissimo ordina moltissimo la nostra vita cioè tutti noi eh estendiamo eh come dire non per cadere nelle categorie del transumanesimo ma penso invece alla tecnologia applicata alla disabilità ehm ha fatto fare passi da gigante all'umanità e alle eh limitate possibilità che con cui l'umanità spesso si confronta eh appunto nella nella vita quotidiana eh c'è un campo sterminato ad esempio dell'applicazione della della tecnologia alla disabilità eh è un tema grossissimo ovviamente quello che lei pone ma non è d'accordo che queste tecnologie hanno escorpiato all'uomo tantissime cose producendo risorse e finanze per l'uomo no io non sono d'accordo nella contrapposizione eh nel 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 muro contro muro ma eh sicuramente in un regolamento in una regolamentazione molto difficile e eh come dire in una dobbiamo ammettere che siamo molto spesso governati e questi sfruttano da tutte le parti poi fanno le tasse sì 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 certo è una rivoluzione copernicana come si diceva qualche altro un'altra domanda una riflessione insomma prego a parte che direi che siamo su due argomentazioni diverse quello è puro mercato e siamo noi a scegliere se vogliamo far parte di questo mercato in cui c'è gente che lo fa per profitto e l'altra è più scienza innovazione scoperta creare un robot credo sia completamente differente poi ovviamente quando verrà perfezionato diverrà anche esso un mezzo per fare profitti e questo e questo vabbè questa era una riflessione due secondi in merito invece a ehm la possibilità di un robot di diventare umano non sono tecnica non sono tecnica però ho sentito dire che ehm c'è una branca della tecnologia no della neurologia che spiega tutte le nostre passioni e le emozioni a livello di connessioni secondo voi qualora fosse possibile ricreare un cervello artificiale per cui che abbia le stesse connessioni tra neuroni sinapsi in tal caso ci sarebbe la possibilità allora di avere un robot umano? questo diciamo questa è l'idea guida dell'autore che citavo prima di come creare una mente eh prodotto per per alcuni versi di alcune operazioni in termini filosofici riduzionistiche perché eh l'idea di poter costruire un organo che pensa considerando la mente non un'entità a sé stante ma il modo di funzionamento dell'organo fisico cervello e quindi ricostruire eh eh attraverso la re-ingegnerizzazione e cioè eh copiando perfettamente tutte le connessioni neuronali eh del del cervello umano e e l'utopia eh che rischia di diventare la distopia se vogliamo eh eh di di chi lavora su questa su questa linea peraltro si inserisce nell'ambito del transumanismo questo no? come diciamo tutte le le grandi eh riflessioni su queste eh neotecnologie eh fatte in connessione con grandi investimenti per per realizzarle cioè dietro queste dietro queste teorie ci sono grossi capitali che si spostano pensiamo a Musk che non è stato uno scienziato eccetera ma che ha deciso di investire sulle eh tecno scienze eh eh più 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 avanzate eh che il risultato eh sia un eh 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 un identico artificiale dell'uomo eh eh rimane una grande domanda filosofica no? Cioè un una mente ricostruita attraverso processi di reingegnerizzazione sarà in grado di funzionare come un essere umano? eh forse come un essere umano eh alla misura nella quale eh eh che operano questi investimenti desidererebbe che fossero cioè come dire delle macchine produttive delle delle degli esseri ehm prevalentemente finalizzati a performare eh e quindi a a a calcolare e adeguare eh le azioni a agli obiettivi secondo una logica di razionalità strumentale questo sicuramente sì che possa generare una umanità artificiale eh simile o addirittura superiore a questa umanità che ha fallito però noi noi ci troviamo eh come dire a un punto di 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 sviluppo estremo della storia dell'umanità eh con in mano un certificato di fallimento perché abbiamo stiamo devastando il pianeta lo rendiamo quasi inutilizzabile per i nostri eh per per le future generazioni eh non abbiamo risolto il problema della guerra anzi continuiamo a vivere guerre in buona misura ad alimentarne continuiamo a investire la maggior parte delle risorse economiche del mondo eh con con su 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 investimenti distruttivi di armamenti eh le 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 e così via noi ci troviamo a un punto in cui il bilancio è un bilancio negativo questo ulteriore spillover ci porterà a risolvere questi problemi le macchine saranno più umane degli uomini come il nostro robot che dice non farò mai niente di aggressivo, di offensivo eccetera o trasmetteremo a questi individui potenziati artificiali potenziati i nostri cattivi e la nostra natura di legno storto per citare Isaia Berlin questo è però non riusciamo a risolverla oggi ognuno di noi osserva con spirito contraddittorio quello che succede sotto i nostri occhi io con una certa dose di paura lo dico sinceramente o magari ci insegneranno a innamorarci o si innamoreranno di noi io non aggiungo nulla concordo pienamente col professore solo due riflessioni l'etica è una branca fortemente attiva del machine learning pur con tutte le aporie del caso però insomma anche io non sono una studiosa di machine learning però sicuramente ci stiamo ponendo il problema appunto della macchina il famoso esempio della macchina che vede la macchina guidata che si guida da sola che vede il bambino che cosa fa la seconda cosa è una suggestione che faceva un filosofo americano che si chiama Hilary Patman appunto nella sua nella sue teorie e cioè diceva e se l'uomo fosse un cervello in un bagno organico cioè se già tutti noi fossimo nient'altro che insieme di sinapsi collegate non ci fosse il corpo insomma fossero fossero illusioni questo solo per non aggiungere nulla ma io la vedo sono fortemente preoccupata ma la vedo in un modo lievemente più positivo perché perché magari come dire l'intelligenza che impara da se stessa produrrà qualcosa di diverso non per forza non per forza negativo e comunque noi saremo sempre se non ci distruggono come dire al fianco va bene vi ringraziamo molto grazie 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 grazie